Il consiglio che mi sento di dare è di studiare, 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 perché è un campo enorme di conoscenza e che più si approfondisce, più appassiona, perché è un modo di entrare in quello che è un'altra società, di come si viveva, di cosa si pensava, di che cosa era bello, cosa era brutto, come era considerato un uomo, una donna, un bambino, che non corrispondono ai canoni di oggi. E quindi studiare e cercare poi di riprodurre questo tipo di realtà in modo più corretto possibile, se si vuole fare qualche cosa di filologicamente corretto. Grazie a tutti.